Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Veniamo alla situazione del Ponte Cannavino. Domani è prevista una riunione in Prefettura a Cosenza per la verifica di ciò che è stato fatto e ciò che ancora occorrerà fare. Intanto con il passare dei giorni crescono i danni all'economia locale, come testimoniato da questa intervista che vi proponiamo realizzata con il Sindaco di Spezzano della Sila. Siamo con il Sindaco di Spezzano della Sila. Resta aperta la questione del viadotto Cannavino. Presumibilmente per tutta l'estate ci saranno i disagi che stiamo incontrando e che soprattutto stanno incontrando i turisti. Le ripercussioni maggiori sono sul territorio del suo comune, che è a gran parte della Sila, Sindaco. Abbiamo avuto modo di rappresentare le nostre rimostranze già all'ANAS nei giorni scorsi e nei mesi scorsi rispetto alla situazione, rispetto anche ad un cronoprogramma che non è stato rispettato. Adesso confidiamo nella prossima riunione che ci sarà in Prefettura fra qualche giorno un piccolo passo in avanti e l'apertura della vecchia strada alle 107, quindi della vecchia strada che passa sotto il ponte. Certamente la situazione è molto critica perché non solo abbiamo ripercussioni forti rispetto a tutte le attività commerciali che si trovano sulla statale 107 a Spezzano Sila, ma soprattutto grande preoccupazione abbiamo per la stagione turistica su Camigliatello e sull'intero alto piano silano perché comunque la questione della viabilità e quindi delle strade è principale. Siamo molto preoccupati per questo, confidiamo in questa riunione se arriverà qualche buona notizia, almeno qualche altra proposta che ci verrà fatta rispetto alla vicenda. Avete dei dati sull'andamento turistico e sulle ripercussioni nell'alto piano silano? Ci sono ripercussioni serie, soprattutto il mese di luglio non è che sia andato dei migliori, quindi confidiamo che il mese di agosto possiamo mantenere il trend perché ricordiamo che l'anno scorso sull'alto piano silano ci fu un trend positivo di presenze, di visitatori, anche di manifestazioni, tanti eventi che abbiamo organizzato sia in collaborazione con le associazioni, con la Regione Calabria. Quindi questo programma estivo è presente, è confermato, speriamo che questa situazione si possa sbloccare quanto prima, altrimenti dovremmo correre a ripari e studiare altre forme di protesta, ma anche altre risposte rispetto a questa situazione che si sia creata.